Meglio raccontare o essere raccontati? Forse scrivere significa proprio indagare quel preciso limite tra se stessi e gli altri, tra vita vissuta e vita desiderata. In questo corso scopriremo i legami tra personaggi all'interno delle dinamiche narrative. Scriveremo un racconto lungo cui giocheremo con conflitti, tensioni, rivalità, altre versioni di sé. Io sono Gianluca nativo e questo è l'altro necessario, il nuovo corso online della scuola Holden.